Per i pensionati titolari della sola pensione nessun redditometro, detto il poliziotto cattivo del fisco, quello buono sarebbe il redditest. I pensionati assoluti non saranno mai selezionati, saranno esclusi dal nuovo redditometro. Il nuovo strumento messo a punto dall'Agenzia delle Entrate, vi facciamo vedere proprio il comunicato stampa dell'Agenzia, verrà utilizzato per individuare i finti poveri e quindi l'evasione spudorata, quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando un'elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dallo Stato sociale negate ad altri che invece hanno tenore di vita più modesto. In sostanza le posizioni con scostamenti inferiori ai 12 mila euro non saranno prese in considerazione, almeno queste le precisazioni dell'Agenzia alle notizie di stampa di questi giorni, ma è chiaro che nonostante le rassicurazioni anche i cittadini onesti sono in apprezzione perché anche in caso di errore bisogna sempre difendersi e dover dimostrare che il fisco si è sbagliato e sappiamo tutti quanta fatica costa andare all'Agenzia delle Entrate e dimostrare che si è onesti.